Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo con una domanda a testa e cominciamo dalla nostra piattaforma. Quanto è stato importante il secondo tempo, visto martedì sera contro la Lazio, per lavorare al meglio in vista della partita di domani? Diciamo che è stata importante tutta la partita, comunque siamo tornati alla vittoria, ma soprattutto era una competizione diversa, che è la Coppa Italia. Abbiamo giocato il primo round, ora bisogna pensare il 23 aprile a giocare il ritorno a Roma con la Lazio. Però ora abbiamo un mese, 20 giorni per rituffarsi nel campionato, dobbiamo sistemare e consolidare la posizione. Buongiorno, mister Giovanni Albanese Sport Italia. Le chiedo come difende la Fiorentina, se le caratteristiche di Ildiz domani potrebbero tornare più utili dall'inizio, alle spalle del centroavanti. Grazie. La questione di Ildiz è una questione che domani affronteremo una squadra che ha fatto una bella partita con l'Atalanta, perché ha creato molte occasioni, è una squadra che crea molte occasioni, è una squadra che gioca molto bene. Sappiamo delle difficoltà che affronteremo domani, bisogna fare una partita giusta perché comunque domani abbiamo bisogno di risultati. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Sport. Le chiedo se in questi giorni dopo la partita con la Lazio ha visto allenarsi il gruppo in maniera diversa, con più entusiasmo, se quella vittoria ha dato un po' più di entusiasmo, visto che tanti giocatori nei vari post partita avevano parlato di una mancanza di entusiasmo dopo i risultati negativi con l'Empoli e con l'Inter. Le chiedo se ha visto qualcosa di diverso e se quella energia pensa che possa essere trasferita domani in campionato. Le vittorie aiutano perché comunque danno fiducia e vede le cose in un altro modo, però è una vittoria di Coppa Italia, ora comunque abbiamo otto partite di campionato iniziando da domani e bisogna trovare i punti per centrare quello che è l'obiettivo principale che è la Champions. Comunque la squadra si è sempre nata bene, è normale che come tutte le cose il risultato positivo si fa vedere le cose in un modo, quello negativo è normale che le faccia vedere in un altro. Giorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. La Juventus è stata lì con l'Inter a pari punti per tanto tempo, adesso il distacco è di 20 punti tra la Juve e l'Inter. Tu pensi che questa sia la fotografia reale della differenza delle due rose, della differenza di valori oppure che la Juventus poteva fare qualcosa di più? Io credo che i numeri sono quelli che contano, alla fine il campionato ti dice il valore reale delle squadre. Poi nell'arco di un campionato succedono delle cose, delle annate, a volte succedono altre cose. In questo momento siamo a 20 punti all'Inter, non dobbiamo pensare a questi 20 punti, ma dobbiamo pensare a quelli che ci mancano per entrare in Champions. Buongiorno Mr. Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Tornando al tema di prima, a lei quale sensazione ha lasciato la vittoria di Coppa Italia? Cioè il periodo buio è ormai finito, è quasi finito, sta per finire, i segnali sono giusti? Cosa? Grazie. C'erano dei segnali positivi anche prima della partita con l'Empoli, poi dopo abbiamo fatto pochi punti da lì in poi. bisogna rimanere sempre in equilibrio, bisogna sempre lavorare sapendo che quella di domani sarà una partita differente, una partita più complicata di quella passata e bisogna essere bravi noi a cercare di finire questo spicchio di stagione, ma mancano 50 giorni e quindi bisogna avere grande entusiasmo, grande voglia, grande desiderio di ottenere questi obiettivi per cui siamo ancora in corsa. Buongiorno, signora Marco Venditti, signora Mia Calcio News, le chiedo una domanda che esula dal risultato di domani e da questa stagione. Al termine del suo percorso, di tantissimi anni di esperienza nella Juventus, se le venisse proposto un discorso diverso da quello di allenatore, se le farebbe piacere nel caso specifico, considerando appunto la sua lunga militanza in bianco-nero. In questo momento mi piace molto fare l'allenatore, mi diverte ancora molto, quindi continuerò a fare l'allenatore. Giorno Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Detto con la massima prudenza, ma in un momento delicato come questo, lavorerebbe meglio con una parola più chiara da parte della società su un suo eventuale rinnovo? Lavoro molto bene lo stesso, l'unico mio pensiero è quello di centrare gli obiettivi insieme alla squadra, e su questo siamo, io e la squadra, come tutto lo staff, siamo concentrati su quelli che sono gli obiettivi, per cui siamo partiti quest'anno. È normale, c'è da lottare, c'è da far fatica, soprattutto per centrare l'obiettivo in campionato di entrare nelle prime quattro. Poi avremo la partita di Coppa Italia, ci dirà se saremo bravi a raggiungere la finale. Però credo che in questo momento l'unico pensiero che dobbiamo avere, che ho e che dobbiamo avere, è quello di centrare l'obiettivo e finire la stagione in migliore dei modi. Buongiorno mister Timoti Ormezzano, Corriere della Sera, Corriere Torino. Tornando sul valore delle squadre, volevo chiederle, Tudor dopo la partita di Coppa Italia ha detto che la Juve ha una cilindrata superiore a quella della Lazio, credo affermazione condivisibile, glielo chiedo, e poi ha detto che la Juve è alla pari come forza di City e Real. Ecco, le chiedo se ha esagerato o anche questo è condivisibile. Grazie. Io nel calcio credo che bisogna guardare solo i risultati, parlare ma quello è più bravo di quello, ma sono tutti discorsi aleatori. Alla fine della stagione, se una squadra arriva prima, vuol dire che ha meritato di arrivare prima. Se una squadra arriva a seconda, ha meritato di arrivare a seconda. Se una squadra arriva a terza, ha meritato di arrivare a terza. Il resto poi dopo sono tutti chiacchiere. È normale che Igor, che tra l'altro è un ragazzo eccezionale, nella partita di trasera abbia avuto una sua idea, però io credo che dopo i valori delle squadre lo danno al campo. Buongiorno, Alessandra D'Angiora e Sport. Lei ha detto che ora c'è questo finale di stagione per sistemarci in campionato rispetto agli obiettivi stagionali del campionato e quindi il piazzamento Champions. Però in questo senso le chiedo, oggi la Juventus si mette come obiettivo di blindare il terzo posto perché qualcosa dietro il terzo posto non sarebbe soddisfacente? O va bene qualsiasi piazzamento? Siamo partiti quest'anno e credo che la società avesse l'obiettivo e aveva l'obiettivo da quello che mi è stato detto di entrare in Champions League e non era facile, visto il percorso che stiamo facendo. Ci siamo, però nello stesso tempo abbiamo bruciato tanti punti quindi ora bisogna fare sapendo che le difficoltà da quella fine ci saranno perché comunque abbiamo tanti scontri retti, le partite non sono semplici e alla fine i punti pesano molto. Bisogna arrivarci in un modo o nell'altro. Salve il Ministro Rodenino della Stampa io volevo chiederle un discorso su un approfondimento su Vlaovic nel senso che comunque i numeri dicono che Cono senza Vlaovic c'è una differenza nei gol fatti, nei punti fatti eccetera quindi le volevo chiedere su cosa ha puntato in questi giorni su di lui e su come la coppia Vlaovic-Chiesa che ha fatto bene in Coppa Italia può darle magari quello scattino in più proprio per domani in questa partita così delicata. Grazie. Come ho detto in tante circostanze anche durante l'anno sono giocatori che hanno bisogno di mettere dentro partite di mettere dentro partite alla Juventus mettere dentro delle partite internazionali che servono per crescere Vlaovic sta crescendo poi ripeto l'anno scorso ha avuto un momento in cui non stava bene quest'anno all'inizio ha iniziato bene poi ha avuto un momento appannamento ma questo durante l'arco della stagione ce l'hanno tutti i giocatori ci sono le punte che c'è stato un periodo che non fanno golo poi dopo ritornano a far golo in questo momento Vlaovic è chiesa ma lo stesso Ken che è rientrato e sta bene dispiace per Milch che è ancora fuori Irdiz sta bene quindi abbiamo delle soluzioni importanti davanti però non gli ho assolutamente detto niente sono ragazzi che crescono giocando Ciao Antonio Paolino Radio Bianconera ti chiedo se avete fatto nel gruppo in squadra autocritica perché tu dici in quest'ultimo periodo abbiamo buttato via molti punti ti chiedo il perché realisticamente se ti sei dato delle risposte e cosa temi di più domani della Fiorentina Della Fiorentina temo il fatto che comunque è una squadra spregiudicata una squadra che gioca una squadra che offende sono sempre partite difficili perché comunque sempre vivendo su Fiorentina sono due squadre comunque che hanno lottato sempre nelle partite che hanno giocato per quanto riguarda invece il perché perché ce ne può essere tanti ce ne può essere solo uno il caccio ti ha sempre la possibilità di poterti rifare noi abbiamo passato in campionato perché non ci siamo anche riusciti da questa situazione domani abbiamo un'altra possibilità di consolidare quella che è la nostra posizione perché comunque mancano ancora molti punti al finale di stagione per poter centrare gli obiettivi da domani bisogna iniziare a farli con l'idea chiara in totale serenità con la convinzione che abbiamo otto partite per centrare quello che è il nostro obiettivo che è la Champions Francesco Pellino, Agenziaria Mister, le volevo chiedere a livello personale lei è soddisfatto del lavoro fatto in questi tre anni alla Juventus oppure c'è il rammarico di qualche scelta fatta scelta errada oppure qualche partita sbagliata non so, posso pensare alla partita col Siviglia col Siviglia quale? dello scorso anno mi ha perso supplementare se sbaglio con tiro a fuori aria credo o mi sbaglio ma no ma il livello generale se ogni volta ho sbagliato e quanto ne sbaglierò poi col carcere il carcere è bello perché al post dopo la partita tutti io avrei fatto quello io avrei fatto l'altro però poi dopo quando siamo lì ci vuole un attimo secondo devo decidere ma se ogni volta ho sbagliato quante volte sbaglierò nelle scelte nella formazione in tutte le cose il calcio è bello per questo però poi per quanto riguarda il lavoro non sono io assolutamente che devo che devo dire se sono bravo non sono bravo anche perché io lavoro mi diverto ho molta passione e cerco di fare il meglio possibile mettendoci tutto quello che ho dentro poi come tutti sbagliamo mi volevo collegare al discorso sui valori interessanti che facevi prima secondo te oggi la Juventus vale di più di quello che valeva in inizio campionato oggi oggi la Juventus è su singolarmente dei ragazzi come? assolutamente ma è normale perché è semplice sono ragazzi sono giocatori bravi che hanno margini di miglioramento e più giocano e più migliorano e l'anno prossimo ecco perché è importante e fondamentale l'anno prossimo arrivare quest'anno arrivare in Champions perché l'anno prossimo ci sarebbero otto partite minimo di Champions che potrebbero essere dieci potrebbero essere dodici potrebbero essere sedici questo cosa significa? Significa che quelli che hanno meno partite internazionali giocando più partite internazionali possono solamente che crescere quindi ecco perché ci sono dei ragazzi dei giocatori tanti che sono cresciuti indipendentemente da quest'ultimo periodo dove sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strada però questo non vuol dire che i ragazzi non sono cresciuti Galosso tutto sporto le chiedo solo se quella di Milik domani sarà l'unica assenza e quando potremo rivedere l'attaccante quella di Milik domani è l'unica assenza per quanto possiamo rivederlo credo che tra 15-20 giorni Milik potrà essere a posto sta lavorando ancora indifferenziato non ha fatto ancora niente con la squadra quindi vedremo speriamo di riaverlo il più presto possibile siccome non abbiamo fatto nessuna domanda sulla formazione non volevo lasciarla assolutamente questa delusione le chiedo intanto se dopo le belle parole su Aleksandro c'è la possibilità di vederlo titolare oppure se la base insomma la formazione che abbiamo visto con la Lazio che comunque ha fatto bene soprattutto nel secondo tempo ma non ho ancora domattina c'è l'ultimo allenamento siccome da qui domani mattina possono succedere tante cose che c'è un po' di virus in giro un po' di robe quindi si sa mai quindi fino a domani mattina la formazione la posso decidere quando domattina li vedo e saranno tutti sani allora li deciderò però una cosa è che la squadra stiamo molto bene fisicamente sicuramente la vittoria ci dà morale e ci dà fiducia quindi bisogna affrontare una partita con la Fiorentina giusta ma soprattutto dal punto di vista caratteriale perché l'altro giorno rispetto a Roma con la Lazio abbiamo vinto quasi tutti i contrasti e non è un dato da poco a posto non vedo altre domande grazie buona giornata